Quella di oggi è stata anche l'occasione per voi di incontrare il Ministro Galletti. Cosa gli avete chiesto e soprattutto cosa vi ha risposto? Intanto gli abbiamo spiegato come categoria dei mitilicoltori quello che è successo nei primi mesi del 2015 quando ci fu una moria di muscoli e a nostro avviso, c'è un'inchiesta giudiziaria in corso, è imputabile, ha una sbagliata esecuzione nei lavori di escavazione dei fondali a nostro avviso, poi vedremo la magistratura cosa stabilirà. Gli abbiamo chiesto garanzie per il futuro, ovvero sia laddove ci dovessero essere nuove escavazioni vogliamo essere certi che non si verifichi più quello che è successo in passato. Il Ministro si è dichiarato molto sensibile alla tematica, anzi ci ha invitato a Roma al Ministero per approfondire l'argomento e per capire bene quello che è successo e come può intervenire il Ministero in questa vicenda. Ecco, quindi chiedete più garanzie e c'è stata comunque un'apertura in questo senso, in questa direzione? Assolutamente sì, c'è stata un'apertura, anzi c'è stato molto cordiale il Ministro a invitarci per approfondire questa cosa.